Grazie per la visione! La versione da 13,3 pollici, ciascuna caratterizzata da un proprio design. Nella versione da 13,3 pollici, l'intero pannello posteriore è in vetro bianco, ma non si tratta di un vetro normale. È Gorilla Glass 2, rinforzato per essere resistente e antigraffio. La versione da 11,6 pollici della Spire S7 è caratterizzata da una struttura realizzata da un unico blocco di alluminio, per un design elegante senza giunture. Aprendolo, la Spire S7 rivela l'elegante tastiera retroilluminata che si accende automaticamente in condizioni di luce non ottimali. La Spire S7 dispone di un display touchscreen Full HD davvero reattivo, con 10 punti di controllo touch, per esplorare nel modo più intuitivo Windows 8, il sistema operativo bello, veloce e fluido. Inoltre, ha una cerniera a doppia coppia di torsione, novità assoluta, che unisce un'apertura più facile con una sola mano e una resistenza maggiore a circa 110 gradi, per garantire un controllo touch il più stabile possibile. Lo schermo può persino essere ruotato di 180 gradi, per condividere i contenuti sullo schermo con amici e famiglia. Per garantire il massimo comfort di utilizzo, la Spire S7 è dotato di un sistema di raffreddamento unico, denominato Twin Air Cooling, che utilizza due ventole, una per aspirare l'aria fredda, l'altra per espellere quella calda, mantenendo poggiapolsi, tastiera e base del notebook sempre freschi al tatto. Grazie ai processori Intel Core di ultima generazione, può far fronte a tutte le vostre necessità quotidiane, mentre l'SSD mantiene i vostri documenti sicuri ed accessibili. Potrete importare ed esportare i contenuti tramite le porte USB 3.0 e micro HDMI. Per aumentare le prestazioni e la reattività, la Spire S7 presenta la tecnologia Acer Instant On, che permette la ripresa veloce della modalità sospensione in meno di 1,5 secondi, mentre con Acer Always Connect la connessione ad Internet in modalità wireless avviene quattro volte più velocemente, oltre ad aggiornare in maniera automatica la vostra casella di posta elettronica e i siti live, in modo che siano pronti non appena aperti. Acer Aspire S7. Apritevi al futuro.